Io non sono per il perdono, mi dispiace, io sono per la vendetta, ti prego, Tina, no, no, mi dispiace, io non sono per il perdono, io sono per la vendetta, ti prego, no, ti prego, eh lo so, purtroppo sono così, ma io ti amo, gli italiani spie, gli italiani l'unica cosa che stanno pensando in questo momento non sono i fatti degli altri, l'italiano se guarda una spia è la spia della benzina, non è, in questo momento l'italiano guarda la spia della benzina, non se ne frega niente di quello che succede, la benzina, signori ma dove vogliamo arrivare, tu mi risponderai se non la metti da nessuna parte, lo so, ma io dico filosoficamente dove vogliamo arrivare questa benzina, oggi 10 euro, che fa? Sono andato dal benzinaio, ho detto metti 10 euro, sono venuto vicino, la macchina l'ha fatto, l'ha fatto di spruzzo, magari un profumo, ti metto poco a cadretto, ma come si, invece della tannica ti danno un campioncino, ma dove stiamo? Allora come ti ha trattato? Di merda Bravo, quindi merita le tue attenzioni? No Oh Quindi noi che cosa facciamo? Le scrivo Ma no Io faccio una domanda, ma perché si dice sei una donna da sposare e non, che so, sei una donna da portare alle Maldive? Ma che priorità vedi nella vita?